Sì, era importante vincere, perché è importante la qualificazione nel primo posto per dopo magari avere un approccio leggermente più, tra virgolette, perché non è niente, ma facile, però insomma è importante. Partiamo un'altra volta, credi di MVP, sei la giocatrici più in forma, onestamente. Ma oggi credo che ho ricevuto un po' più di gioco, perché Sheila stava con un po' di dolore, anche Kinga, allora bisogna che ci veniamo e qualcuno fa un po' di più, oggi è toccato a me, per fortuna è andata bene, c'è una differenza sulle statistiche dei palloni che ho ricevuto in attacco, quello dimostra che magari loro stavano più o meno bene fisicamente, ma adesso l'importante è recuperarci tutte, perché dobbiamo stare bene tutte per andare avanti, soprattutto adesso subito questa domenica la partita di Bergamo. E come si è stati da questa partita dopo il successo con Chieri che è cominciato a vincere anche in campionato? Sì, dopo Chieri abbiamo ripreso un po' di fiducia e serenità che ci era mancata nelle ultime tre partite, con Bergamo è difficile perché penso che giocherà come Novari in campionato dopo aver perso la supercoppa, allora poi in casa non ci regaleranno niente, noi non dobbiamo sprecare nulla, oggi magari qualcosina abbiamo regalato, qualche olore penso di più di concentrazione che di altro e questo dobbiamo migliorare, se riusciamo a tenere alto il livello della testa, credo che possiamo andare ancora più fuori. Grazie Carlo, continuiamo così.